Shakhtar Inter 0-0 e vi spiego, vi spiego perché abbiamo fatto fatica stasera, perché ci sono le risposte, ricco di tattica questo video, questo post partita secondo me, però voglio dire due cose innanzitutto, intanto alle 21.30 più o meno vi aspetto su Twitch perché facciamo un post partita anche lì e poi guardiamo anche il Milan con l'Atletico, c'è anche Real Madrid, insomma ci facciamo compagnia. E vi dico due dati della partita, importanti prima di iniziare, perché adesso farò anche delle critiche a Inzaghi la prima volta ragazzi, perché non mi è piaciuta la preparazione della partita e anche la gestione della partita dopo. Anche se 0-0 ci può stare, non è un risultato devastante, non è positivo ovviamente, però meglio un punto che 0, ecco sinceramente, 0 sarebbe stato grave. Allora, due dati importanti, tiri totali Shakhtar, 11, tiri totale Inter, 11, tiri totali in porta Shakhtar, 2, Inter, 2. No, è importante dire questa cosa perché ci sarà sicuramente qualcuno che dirà, oddio non abbiamo fatto nulla, abbiamo preso pallate, le occasioni abbiamo avute molte, anche noi in realtà, parate anche del portiere importanti, le occasioni sono pari, cioè il pareggio è giusto, è giusto il pareggio, è strano che sia 0-0, ma è giusto il pareggio. E lo Shakhtar ha avuto molto più possesso palla, certamente, però un possesso palla molte volte sterile. Infatti per fare questo possesso palla, De Zerbi, come faceva anche a Sassuolo, in realtà coinvolge un sacco di giocatori, però poi che non arrivano in area, perché con la scusa di fare, di arretrare, di prendere palla, di fare densità in mezzo, eccetera eccetera, poi non arrivano in attacco e quindi non segna. Questo è giusto dirlo all'inizio, perché altrimenti perdiamo i riferimenti. Ora, perché l'Inter ha fatto male? C'è una cosa soprattutto, l'approccio della squadra senza possesso palla. Noi abbiamo fatto, per tutta la fottuta partita, mi dispiace, Inzaghi, male, eh, voto 4,5 stasera, secondo me, domani faremo anche le pagelle, però insomma, tutta la partita pressing offensivo, pressing alto dell'Inter e soprattutto aggressivo, perché puoi fare anche il pressing alto, ma sulle linee di passaggio. Invece no, noi proprio alto e aggressivo c'è sull'uomo, diritti contro l'uomo direttamente per recuperare palla. Folle, folle, sbagliatissimo, rischioso, contro una squadra di nanetti, tecnici, brevi linei, che ti saltano l'uomo al primo controllo e poi trovano lo spazio per giocare di dietro. Quindi mi dispiace, sbagliatissimo. Ci stava il pressing alto volendo, è una scelta che si può anche fare, ma difensivo, ma tra le linee di posizionamento, non andando sull'uomo, perché se vai sull'uomo ti saltano e gli dai il gioco facile. Loro hanno avuto troppo facile la costruzione del gioco, soprattutto nel rinvio anche del portiere, del basso, loro ci chiamavano in avanti e noi come polli in avanti tutti quanti sull'uomo, portando, sguotando anche la mediana, togliendo Brozvich, portandolo su in alto, sul loro mediano. No, no, sbagliatissimo. C'è una scelta folle, io non so come definirla, ma una scelta folle. Abbiamo retto molto il livello difensivo, anche uno contro uno, grazie per esempio a uno screener monumentale stasera. Screener secondo me è il vero capitano della squadra, è il vero giocatore solido mentalmente, solido difensivamente, solido nella prestazione, raramente fa errori sia tecnici ma anche concettuali. Cioè, screener secondo me è il capitano della squadra, è la roccia vera. Stasera ha fatto una partita pazzesca. Loro, ragazzi, possesso bello, però poi non occupavano l'area con attaccanti fortunatamente, perché altrimenti era veramente difficile stasera e saremmo usciti con le ossa rotte. Ora, noi, grande fatica ad impostare. Una fatica bestiale ad impostare, ragazzi. Barella non faceva il lavoro di Cialanoglu, parlo del primo tempo, e quindi noi costantemente facevamo fatica ad uscire dal basso, anche perché tre difensori, e non stavano neanche larghissimi, erano medi o stretti, e poi c'era Brozovic davanti, un po' Barella un po' più distanziato, più avanti, inservibili. Inservibili perché lo facevano a pressa in quella punta, con i due esterni e col trequartista, e noi chiusi. Non ho visto quello che volevo nel pre-partita, dove ho messo però Cialanoglu, il posto di Vessino. Scelta che ci possa bastare anche Barella-Vessino, però Barella doveva fare quel lavoro lì, di Cialanoglu. E Brozovic doveva decentrarsi, non giocare al centro, ma stare largo, un po' più largo, centrale ma sulla destra, e i terzi dovevano allargarsi. Larghi, cazzo! State larghi! Chiamateli fuori larghi, i loro fottuti esterni. Così, con due mediani dentro, loro un trequartista hanno, e avrebbero, cioè uno dei due aveva spazio per ricevere il pallone largo tra gli spazi, invece noi stretti, e loro si chiudevano, avevano una compattezza enorme, stavano anche altissimi di squadra, c'era pochissimo spazio, e il nostro possesso era difficoltoso, era difficitario, frenetico, e abbiamo sbagliato un sacco di passaggi di palloni e di controlli di casini in mezzo. Sbagliato, bisognava cambiare l'atteggiamento. Poi, altra cosa, Doomfries, per esempio, non mi ha fatto impazzire, nel primo tempo ha avuto due o tre occasioni di fare un po' meglio, aveva il pallone un po' più largo, eccetera, ha sbagliato due controlli, ma anche Di Marco ha sbagliato due controlli, si vede che a forza di correre dietro i giocatori dello Shakhtar era un po' più stanchi, e poi si è perso un po' l'ucidità. Però, vabbè, un po' tutti hanno fatto fatica stasera, e non è Doomfries, perché Doomfries ha fatto delle cose dove ha sbagliato, e poi ha fatto anche delle ottime cose, delle chiusure, delle cose importanti, però insomma, partita grigia da parte di più di qualcuno. Poi, che altro dire? Una cosa importante, avevamo la soluzione di attaccare con i giocatori alti di testa, quindi Vessino, Doomfries, Gecko e Lautaro in area, l'abbiamo fatto una volta, una nel primo tempo, una sola, e quasi scappava il gol, una sola volta col cross di Brozovic sulla sinistra. Bisogniamo cercarla di più, questa opzione qua, questa occasione, però il punto è che non siamo mai riusciti a trovarla, perché? Perché sostanzialmente non si faceva costruzione, non si faceva gioco, e quindi non riuscivi a decidere tu come arrivare da una parte o dall'altra. Dovevi sfruttare in base a come ti arrivava la palla, a come la conquistavi un po' in mezzo al campo, eccetera. Quindi non siamo mai riusciti ad avere il pallino del gioco in mano, anche per dei momenti dove abbiamo voluto, dove potevamo fare noi quello che volevamo fare. Ed è un peccato, perché ragazzi, avere osato, se avessimo potuto fare due, tre volte, non cinquecento, due, tre volte, bastava poco, 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 secondo me. Quel fottuto cross con Di Marco dalla sinistra, portando in area dalla destra Dufres, Vessino, Dzeko e Lautaro, ragazzi, il gol veniva fuori, il gol veniva fuori. Avevamo un mismatch fisico dentro l'area del loro, pazzesco, che non abbiamo mai sfruttato. Quindi grave, 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 mi dispiace. Poi, ecco, la differenza tra le due squadre, a livello di mentalità, che poi aveva avuto molto più possesso lo Shakhtar è nato di fatto. Però, come mentalità, entrambe le squadre vogliono un po' il possesso. Il punto è che lo Shakhtar ce l'ha fatta. Noi abbiamo avuto una fase di non possesso difensiva malvagia e quindi abbiamo dato vita facile a loro. Però, entrambe le squadre sono votate al possesso. La differenza è che lo Shakhtar ha un possesso un po' più verticale. L'Inter ce lo vorrebbe avere un po' più in ampiezza, sfruttando gli esterni, eccetera, eccetera. Cosa importante. Shakhtar, dicevo, difesa altissima. Nel secondo tempo aveva fatto grande fatica e buonanotte. Ma nel primo tempo c'era l'occasione, più di qualche volta, di lanciare il pallone dietro la loro linea difensiva, con magari qualche inserimento tipo Dunfri, eccetera. Come l'anno scorso di Hakimi, cosa che non abbiamo mai osato fare. Non abbiamo mai provato a fare questo tipo di giocata. Della palla lunga dietro per l'esterno che taglia. Perché aveva una difesa altissima. Vabbè. Non sfruttate neanche questa situazione. Poi persistono alcune scelte sbagliate da parte di qualche giocatore, che non cito perché sembra che ce l'abbia con lui, però qualche scelta sbagliata anche nel primo tempo. Ragazzi, vedetemi il trentacinquesimo minuto. Poi, dispiace per Brozvic che è uscito, perché in effetti Barella era un po' stanco sulla fine. Il cambio, tatticamente, era giusto. Era giusto provare a mettere Barella dietro e soprattutto, più che Barella dietro, era giusto mettere c'era la Noulu in campo, per avere un po' più di uscita, provare ad avere un attimo di palla in più, cosa che si faceva fatica ormai ad avere. Il punto è che probabilmente Barella era anche stanco. Vessino non ha mai giocato 90 minuti fino ad oggi, mi pare. Quindi siamo un po' calati comunque nel centrocampo finale. Forse era proprio la formazione iniziale essere sbagliata. Cioè, oddio, sbagliata. Diciamo che sbagliata col seno del poi. Cioè, poteva anche essere giusta la formazione iniziale, ma non l'abbiamo sfruttata per le caratteristiche che aveva. E quindi tanto valeva mettere Barella, Cialanoglu e Brozovic all'inizio. Sinceramente. Eh, questo era il punto. E casomai mettere Vessino gli ultimi 20 minuti togliendo un Barella che era veramente stanco, stanco, stanco stasera. Verso la fine, alla fine non ha neanche ricorso qualche giocatore perché proprio non ce la faceva più. Ma è normale, eh. Cioè, sta giocando tanto, spende tanto, è normale. Cioè, non è che è colpa sua. Ci sta che qualche partita vada sostituito lui. Eh, vabbè. Altra cosa importante è Lautaro. Ragazzi, ha avuto due o tre occasioni. Lui, a me piace perché tira, è grintoso, lo vedi. Tira spesso, però realizza poco. Per carità, poi dici, è andato vicino, bel tiro. Eh, ho capito, ma devi anche metterla dentro. C'è un conto se te la para il portiere, un conto se prendi la traversa, Barella, come... un conto se tu hai occasioni e sbagli i tiri. Anche una volta abbiamo preso palla, hanno sbagliato con il loro portiere, sei davanti all'area, boom, tiro alto. Poi ha sbagliato anche Gecko, un gol fatto, eh, stasera, anche lui. Però Lautaro è una costante. Lui, per fare un gol, e ne fa comunque molti, ne sbaglia due costanti. È questa cosa, ragazzi, per uno, ripeto, che deve fare salto di qualità, eccetera, eccetera, che finalizza, perché Gecko lavora anche con la squadra, dici, vabbè, ma Lautaro dovrà essere quello che poi finalizza, eccetera. Se mi sbaglio hai gol. No, no, benissimo, non benissimo. Ragazzi, questo è. Comunque domani facciamo le pagelle e andiamo più nel dettaglio specifico. Inzaghi, male stasera, non ci ha capito molto, ha preparato male la partita, l'ha intesa male e l'ha anche portata avanti male. Devo dire... mi tengo il punto che può essere molto determinante, molto importante, però adesso siamo costretti un po' a vincere le partite che, non dico tutte, però almeno vincerne almeno, 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 forse tre, per essere sicuri, o due, cioè minimo due bisogna vincerle e una pareggiarla, oppure vincerne tre e perderne una. Cioè, siamo un po' costretti a fare così. Quindi, costretti un po' a rincorrere e la cosa non mi fa impazzire, ecco, sinceramente. Poi avremo le partite in casa, eh, contro lo Shakhtar, che è un nostro avversario. La Real Madrid, pazienza, però, però, poi c'è lo Sheriff. Ragazzi, ci vediamo alle 21.30 su Twitch, più o meno, va forse a 21.40 anche, e domani pagelle. Sono un po'... sono un po'... ne parliamo dopo.